buongiorno possiamo disturbarla signora antonietta come si vive qui all'inizio benissimo adesso con 24 anni di sclerosi multipla alle spalle sinceramente non riesco più a fare tanto bene queste scale e ne sono 60 e dura e dura ci aprono i loro alloggi il loro cuore residenti delle case parcheggio di via spatocco a chieti c'è antonietta che deve far fronte alla sclerosi multipla e un ambiente non certo salubre come ci riferiscono gli inquilini tra sporcizia degrado ratti barriere architettoniche discariche abusive si chiamano case parcheggio perché la permanenza dovrebbe durare poco tempo per poi essere accolti in una casa popolare più dignitosa eppure c'è chi vive qui dal 1981 lei un inquilina di queste case parcheggio di questa zona zona filippone signora ma come si vive qui male 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 io purtroppo devo vivere quasi queste condizioni vivo in una casa parcheggio senza cose umida tra l'altro lei ha anche una problematica sono malata oncologica pure il 118 lei mi diceva prima come fa deve girare un po girare è complicato a un certo punto devo andare io alla corsa perché non possono venire perché prima di tutto è stretta è scomodo per loro cosa chiede al sindaco lei prima mi ha detto il sindaco è una brava persona mi dà una sistemazione almeno che almeno vivo una buona vecchiaia lei è Angela e vive qui da 41 anni Sabrina solleva altre problematiche non abbiamo la luce per le scale infatti usiamo i nostri i nostri fari e il condominio il condominio sarebbe comunale quindi in gestione al comune cosa che noi non abbiamo non ci sta pulizia non ci sta essendo un suolo pubblico e noi paghiamo le tasse ci dovrebbe essere più anche un occhio di riguardo per quanto riguarda il comune no vengono a prendere l'immondizia dei bidoni però non si spazza non si tagliano queste erbacce la segnalazione dall'avvocato Monia Scalera che non ha potuto non sollevare l'attenzione sui suoi concittadini lei ha fatto una domanda per la casa popolare? sì l'ho fatta e alla graduatoria provvisoria sono arrivata a diciottesima e a quella definitiva ventesima poi ho avuto l'illusione che mi fosse stato dato l'alloggio ma ad oggi che siamo al 3 febbraio non ancora ho visto niente Natascia cerca di aiutare la zia e si rivolge direttamente al sindaco Ferrara signor sindaco noi chiediamo almeno un incontro è meglio che venga lei qui e vede in che condizioni siamo messi